I controattaccanti li ha ripresi due o tre volte Ecco il gruppo si è ricompattato agli ultimi cento metri Vito! Ciao Ciao Bellissima gara ci sono state tante tentative di fuga e si è risolta agli ultimi duecento metri Ecco rientro, si è conclusa anche la seconda gara adesso guardiamo domandiamo che è vinto perché lo vedo a casa Ecco rientro gli atleti, hanno fatto sei giri una battaglia continua fin dalla partenza Grazie 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 Grazie